Fra due mesi San Vito avrà un nuovo o una nuova sindaco o sindaca. Infatti è uscito il decreto e anche la delibera della giunta regionale con la quale si indica nel 3 e 4 ottobre le date per le elezioni amministrative. Passiamo a dire subito che oggi, mercoledì 4 agosto 2021, è aperto il centro vaccinale nel Parasport e lo vogliamo dire perché noi ribadiamo l'urgenza, la necessità per coloro i quali non l'hanno ancora fatto di vaccinarsi e lo diciamo soprattutto in ragione del fatto che è previsto un aumento dei contagiati soprattutto per quanto riguarda questi giorni che vanno verso il ferragosto e anche oltre. E questo purtroppo è avvalorato anche dai dati che abbiamo per il nostro territorio comunale, tant'è che sono pari a 49 le persone coinvolte, di cui 19 positive, 10 maschi, 9 femmine, 19 persone positive ci riporta indietro nel tempo. Ecco perché ribadiamo, vaccinarsi, 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 visto che noi tra l'altro abbiamo qui un centro che è considerato tra i più efficienti che vi sono nella regione Friuli-Venezia-Giulia. Quindi un invito forte perché se vogliamo tornare a vivere, se vogliamo tornare a stare assieme, se vogliamo tornare a godere di un concerto, di uno spettacolo, beh possiamo farlo se ci vacciniamo. Detto questo, quest'oggi, mercoledì 4 agosto, nelle grandinate del castello alle ore 21, riprende la rassegna tra la storia e la gente. Oggi, voi sapete che la rassegna di quest'anno antepone al verbo ri e quindi questa sera nascere che rinascere con due storici, Roberto Gargiulo e Deborah Coppola, e con questa piccola introduzione salvaci o signore dal pestifero morbo, 10.000 anni di epidemie che hanno flagellato l'umanità e la patria fiulana. Giovedica e domani avremo l'avvio di una bella iniziativa, Wine Sunset, ovvero la promotora ha individuato i luoghi del gusto, tra questi è stato individuato il giardino Bagnarol che quindi parte dal giovedì al sabato dalle ore 18 nell'ambito della strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, degustazioni e abbinamenti di sapori tipici friulani. Questo avviene, ripeto, nel giardino Bagnarol e significa inviare San Giovanni 88-3. Andiamo a venerdì. Ecco, dalle ore 9 alle ore 12 di venerdì, 6, qui in sala consigliare, accanto alla sala consigliare nella sala tecnica, ci sarà la possibilità per coloro i quali hanno difficoltà a scaricare il messaggio che dicevano dal Ministero della Salute sul proprio telefonino il certificato verde, il passaporto verde, il Green Pass, viene fatto da personale volontario che vi sarà a disposizione. Allora, ripeto, venerdì 6 come venerdì scorso e come i prossimi venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, la possibilità di poter vedersi scaricare il passaporto verde per coloro i quali vengono muniti della tessera sanitaria e che hanno ricevuto il messaggio da parte del Ministero della Salute. Detto questo, venerdì sera si avvia la rassegna del teatro amatoriale a cura dell'Associazione Estragone in Piazzetta Staton alle ore 21, in caso di maltempo si va nella diacente Auditorium Zotti con uno spettacolo simpatico, Betoneghe Senasse Nosse de Venta a cura del Teatro delle Arance di San Zonà di Piave, ore 21, Piazzetta Staton di venerdì 6. Andiamo al sabato 7, subito ribadiamo che sabato 7 è chiuso il centro vaccinale e noi ce ne dobbiamo perché siamo convinti che invece doveva rimanere aperto, anche se il numero non era ampio, doveva rimanere aperto proprio per favorire coloro i quali che invece si sono visti spostare l'appuntamento, ma lo sottolineiamo proprio perché riteniamo che bisogna fare ogni sforzo per facilitare la vaccinazione e questo soprattutto da parte anche dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Domenica è la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo in memoria della tragedia di Marsinelli. Domenica 8 agosto 2021, noi celebreremo questa giornata alle ore 11 e 30 con una deposizione della corona nel monumento che abbiamo ai caduti sul lavoro e voglio dirlo proprio in memoria dei connazionali caduti sul lavoro, come dice la motivazione della istituzione di questa giornata in patria e all'estero proprio per quello che per noi significa l'articolo 1 della Costituzione. È un momento di particolare riflessione per quanto riguarda coloro i quali si sono dovuti andare all'estero e magari diciamo così sono caduti sul lavoro, ma anche quanto è successo qui nel nostro Paese, proprio per far sì che ci possa essere sempre di più tutto ciò che serve per fare in modo che questi infortuni non abbiano ad avvenire. Anche in questi giorni in altre parti del Paese abbiamo avuto tragedie e questo, lo ricordiamo, va a far sì che noi dobbiamo fare ogni cosa perché si possa lavorare in ambienti sicuri assumendo tutte le misure necessarie.